Sabato, 14 ottobre 2017. Damian, sia un ragazzo molto pericoloso. Con il dottor Fernandez, il Dos Casas finge di essere docile e mansueto, ma poi, qualcosa fa capire, che non è affatto cambiato. La Valdesalce, successivamente, intuisce che è stato Damian a tentare di ucciderla, e farle perdere il bambino che porta in grembo, cospargendo di sapone, le scale del negozio di Beatriz. Ernando, difende il figlio e litiga con sua moglie. L'uomo, si rifiuta categoricamente, di predisporne il ricovero, in un ospedale psichiatrico. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie per la visione!